primo marzo 2020 rosa senza mettermene molta io la mangerei tutta ma non posso una buona porzione Mimmo non arrabbiate ci sarà qualche pesella vede pesella pesella mi puoi ingroppare una canaroccia ma quando mai? e non c'è quando Mimmo ti assai anche anche un po' di più vediamo un po' di meno e dammela a me questa dai bene buon appetito a tutti quanti questa buona pasta al forno signora Rosa credo che mi piacciono certo che sono buone a me piacciono sempre quindi il sapore è buono ma anche il profumo veramente finisci finisci poi mangia un uccettino non lo vuole ci sarà la villa ci sarà la villa ci sarà la villa in acqua e ti smanno chi vuoi? ora mangia mamma vieni vieni amore chi sei betta figlia mia figlia mia non la garetta non la garetta non la garetta vieni astra vieni amore vai mangia non ti fa niente ma mangia tu riusci mangia Ehi, quando vieni di stare in stare si scappa, rubinica vieni l'ho là, scappa Sì, dai, finissi se stai chiedendo, dai 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 Mentre che mangi c'è qualche pezzo d'osso in bocca Mentre quello è l'olungo L'olungo è l'osso, è sintero Buono, tutto buono, la pasta ottima Lo stingo, buonissimo E le patate ancora messe Eh, buonissime, le patate pure a me sono piaciute Adesso, vediamo Adesso, è bellissima C'è nella mia borsa la bustina Vabbè, un po' la bustina di ultimo Prima di una è l'ora La Macedonia E' forte era Un sacco era Ma lei per questo le ha mangiate così tanto Perché si andavano troppi Ma invece di te la aiuto Io non ho Mambo un calore Mambo un calore Complimenti Mi ha lasciato la prende, sì Certo Innanzitamente Tutto 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 Grazie a tutti Grazie a tutti